Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Circa un anno e mezzo fa abbiamo dedicato una puntata agli IMI, agli Internati Militari Italiani, cioè a quei soldati italiani che dopo l'8 settembre del 43, dopo l'armistizio, furono catturati dalle forze tedesche e portati nei campi di concentramento dell'Europa occupata. Il loro fu un destino terribile, fu un destino di uomini che per aver rifiutato di aderire la Repubblica Sociale vennero utilizzati come degli schiavi, degli schiavi che avrebbero dovuto mandare avanti la gigantesca macchina da guerra nazista. La loro è una storia che raccontata in quella pillola ha scatenato una cosa che non avrei mai previsto, perché sotto quella pillola sono arrivati commenti sul video, sono arrivati commenti, discussioni sull'argomento su cui ognuno può avere la sua idea, ma sono arrivati soprattutto, e questo mi ha colpito veramente tantissimo, tanti ricordi. Perché io in quel video ho parlato di numeri, ho parlato di 600, 800 mila soldati, un milione di soldati, ho parlato di quanti di loro fossero morti, quanti non fossero riusciti a tornare a casa per anni, ma sotto quel video quei numeri hanno iniziato ad avere un volto. Sotto quel video hanno iniziato ad essere raccontate le storie di padri, di nonni, di zii, di prozii, di amici, di conoscenti, di amici, di amici, di persone che magari si erano incontrate una volta e che avevano raccontato la loro storia. Storie che in qualche modo davano un volto a quei numeri che io avevo fatto. Storie ognuna diverse dall'altra, eppure così simili. C'era chi aveva raccontato tutto, una volta tornato, magari per svuotare quel sacco di dolore che si era portato dietro per due anni. Qualcuno che invece per anni non ha voluto raccontare nulla, lasciando solo piccoli esempi, piccoli accenni della tragedia che aveva vissuto. Ora, tutte queste storie meriterebbero di essere raccontate. Ognuna di queste storie meriterebbe di essere ricordata, tramandata, per continuare a far sì che quei numeri abbiano un volto. Ne ho scelta una. Ne ho scelta una per due motivi. La prima è che è una storia diversa da tutte le altre. Perché possiamo pensare che questo fosse stato il destino, questo destino terribile, fosse stato riservato solo alla truppa, ai soldati semplici, al massimo ai sotto ufficiali. Invece ad essere portati via in quei convulsi giorni dopo l'8 settembre furono anche gli ufficiali più alti in grado, i generali, i quali ebbero un destino diverso rispetto alla truppa, ma non per questo meno terribile. L'altro motivo è che questa non è solo la storia di un generale, Alberto Trionfi, che morì in Germania nel 1945 dopo aver passato un'intera prigionia di privazioni. No, è la storia anche di una famiglia, di una famiglia che rimase per mesi ad attendere notizie del suo destino, che venne addirittura illusa sul fatto che fosse sopravvissuta solo per scoprire, a posteriori, che invece era morto, ed è la storia di una figlia, Maria Trionfi, chi a tutti gli effetti mi ha contattato per raccontare questa storia, che ha dedicato una parte della propria vita a cercare di far sì che il padre potesse avere giustizia. È la storia di tutte queste persone che, come vi dicevo, danno un volto a quei numeri a cui abbiamo dedicato la pidola un anno e mezzo fa. Quindi, come sempre, ringraziando tantissimo Maria Trionfi che non solo mi ha raccontato la sua storia, ma mi ha fornito materiale, un libro in cui sono state raccolte tutte le lettere di quegli anni, tutta questa storia, ringraziando lei e ringraziando tutti coloro che mi hanno raccontato un pezzo della storia della loro famiglia, inizio a raccontare la storia del generale Alberto Trionfi. Quindi, come sempre, se non siete ancora iscritti al canale, fatelo, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video, sigla e poi iniziamo a raccontare. La nostra storia inizia a Roma il 7 settembre 1943, un giorno come tanti. Ora, detto così sembra strano, perché noi sappiamo che cosa è successo, cosa succederà l'8 settembre 1943, appena 24 ore dopo l'annuncio dell'armistizio, la fuga del sovrano, della corte, del governo, l'abbandono dello Stato e dell'esercito italiano che dall'oggi al domani si trovò allo sbando, alla merced di quelli che poco tempo prima erano stati alleati, i tedeschi. Ma il 7 settembre 1943, neanche a Roma, neanche nella capitale italiana, la maggior parte delle persone di tutto questo non sapeva nulla. E tutto quello che sapevano era che quel 7 settembre era un giorno di guerra, un giorno di guerra come tanti. Molti sapevano che gli alleati erano sbarcati in Sicilia, che erano riusciti a conquistarla abbastanza rapidamente. Qualcuno magari sapeva anche che quattro giorni prima, il 3 settembre 1943, gli alleati erano sbarcati in Calabria e forse si aspettava che prima o poi iniziassero a risalire la penisola. Quasi nessuno sapeva che due giorni dopo, il 9 settembre, sarebbero invece sbarcati a Salerno. Quel giorno, 7 settembre 1943, a Roma c'era anche il generale Alberto Trionfi. In realtà non avrebbe dovuto essere a Roma, avrebbe dovuto trovarsi in Grecia, a Navarino, laddove aveva il comando. Era un generale di vecchio corso, nato nel 1892 a Iesi, aveva combattuto in quasi tutte le guerre che in Italia aveva combattuto durante la sua vita, aveva combattuto nella Prima Guerra Mondiale, aveva combattuto in Libia, in Albania ed ora era stato mandato in Grecia. In realtà si trovava in Italia in permesso, era arrivato il 30 di agosto, sette giorni prima, quando aveva saputo che la moglie era gravemente ammalata e aveva ottenuto il permesso di tornare in Italia a visitarla. Quel 7 settembre però aveva deciso di tornare e nonostante qualcuno gli avesse detto perché non approfitti della situazione, perché non provi a rimanere più qui con la tua famiglia, perché tornare in Grecia? Aveva deciso di tornare. E' incredibile pensare, immaginatevi il viaggio di quest'uomo che partito da Roma, si dirige in Grecia, parte in un mondo e arriva in un mondo completamente diverso. Quando arriva in Grecia e torna nella sua divisione, la situazione è completamente cambiata. I tedeschi hanno saputo molto prima degli italiani quello che stava capitando e soprattutto sono stati molto più pronti a reagire a quell'armistizio. Come abbiamo raccontato nella pidola dedicata all'8 settembre, quando venne firmato all'armistizio gli ordini che arrivarono alle varie divisioni italiane furono frammentari. Qualcuno diceva che bisognava resistere ai tedeschi, qualcuno diceva che bisognava rinunciare a combattere sia che si trattasse di tedeschi che di alleati, qualcuno diceva di unirsi invece agli americani che stavano arrivando, ma nessuno aveva ordini precisi. Nello sbandamento dell'esercito dell'8 settembre i tedeschi furono invece decisamente più rapidi, perché loro avevano previsto quello che stava succedendo. Avevano iniziato a inviare divisioni, avevano iniziato a controllare dove fossero gli italiani, un alleato di cui non si fidavano più particolarmente, e avevano predisposto accuratamente la cosiddetta operazione Axe, che sfruttando proprio il caos generato dalla mancanza di ordini dell'alto comando permetterà ai tedeschi in pochissimo tempo di catturare tutto l'esercito italiano, che si trovasse in Italia, che si trovasse in Francia, che si trovasse nei Balcani, che si trovasse in Grecia, dove si trovava il generale Alberto Trionfi. Ad alcuni di quei soldati, come abbiamo raccontato, andò peggio che ad altri. Coloro che cercarono di resistere, coloro che cercarono di difendersi, di mantenere le posizioni, molto spesso vennero trucidati. Successa Cefalonia, successa Co, successa in tanti altri posti molto meno noti. Altri, quasi tutti gli altri, invece vennero catturati. Qualcuno riuscirà a darsi alla macchia, qualcuno si unirà addirittura a quei partigiani, soprattutto nei Balcani che fino a quel momento aveva combattuto. Qualcuno invece inizierà un movimento partigiano in Italia, ma la stragrande maggioranza di loro sarà catturato. Il nostro generale, Alberto Trionfi, sarà catturato il 18 settembre 1943. Secondo quanto è stato ricostruito dagli storici, in quei giorni, insieme ad altri comandanti, stava cercando di mediare con il comando tedesco in Grecia una possibile soluzione, far sì che i soldati italiani potessero rimanere nelle loro posizioni senza essere costretti ad essere deportati, così come i tedeschi stavano cercando di fare, ma la risposta tedesca fu molto semplice. Dopo aver rifiutato le loro proposte, li fecero arrestare. E non interessandosi del fatto che fino a quel momento avevano combattuto insieme, del fatto che si trattava di altri ufficiali, li presero e con un viaggio di sette giorni li deportarono in Polonia. Il viaggio, così come venne descritto da altri che, come Trionfi, furono portati insieme a lui, fu un viaggio della speranza. Capite che ad essere deportati non erano dei giovani di vent'anni in questo caso, erano uomini talvolta anche abbastanza anziani, o comunque già in là con l'età, Trionfi aveva già più di 50 anni, talvolta malati, che vennero caricati in dei treni, in dei treni merci, e per sette giorni e sette notti viaggiarono attraverso i Balcani con poco cibo e poca acqua, fino a raggiungere la cittadina di Schokken, o Schokchi, come viene chiamata oggi, Schokchi, chiedo scusa, come viene chiamata oggi in Polonia, una città dove i tedeschi avevano preparato un campo ad attenderli. Ora, nella pidola che abbiamo dedicato agli IMI, agli internati militari italiani, abbiamo raccontato come la prima cosa che fecero i tedeschi a questi militari italiani fu di offrire loro una possibilità. Fu di offrire loro la possibilità di arruolarsi nelle forze della neonata Repubblica Sociale Italiana e in questo modo aver salva la vita, poter tornare in Italia, arruolarsi nell'esercito, avere una paga, tornare ai propri affetti. Ma come abbiamo raccontato in quella puntata, la stragrande maggioranza di loro, il 90% di loro, rifiutò la proposta. Preferì la prigionia piuttosto che arruolarsi con la Repubblica Sociale. Il destino di quegli uomini, come abbiamo raccontato, fu quello di essere avviati al lavoro forzato, essere avviati a fabbriche, miniere, quando gli andava bene in agricoltura, di essere usati come schiavi per la macchina bellica nazista, per l'operazione, per l'organizzazione TOD. Tutte queste cose, però, agli altri ufficiali, ai generali, non le si può imporre. O meglio, i tedeschi inizialmente provano ad imporle anche a loro, a imporre anche a loro il lavoro coatto, ma gli ufficiali si fanno sentire, i generali ricordano ai tedeschi quali sono le regole della guerra per quanto riguarda i prigionieri, non che i tedeschi fino a quel momento le avessero particolarmente rispettate, provano a ricordagliele e alla fine riescono a ottenere che vengano rispettate. I generali possono essere imprigionati, ma devono essere tenuti in certe condizioni e soprattutto non possono essere avviati al lavoro coatto. Alla fine i tedeschi accettano, ma tra la fine del 1943 e l'inizio del 1945 provano in tutti i modi a spezzare quell'orgoglio che i generali italiani avevano saputo mantenere. Provano a spezzarlo con il freddo, un freddo che potete immaginare quanto fosse pungente. Pensate che questi uomini erano partiti dalla Grecia, dal sud dei Balcani, dall'Italia a inizio settembre, quando il clima era ancora decisamente caldo, magari con le uniformi estive, e si erano trovate nell'invero del 1943 a passarlo in un campo di concentramento in Polonia, spazzata dai venti che arrivavano dai nord, dalla Russia, che arrivavano davanti, che anticipavano l'armata rossa che stava avanzando. Avevano cercato di piegarli con la fame, con la fame a cui li avevano costretti, nonostante teoricamente avrebbero dovuto fornire loro cibo adeguato, 1.400-1.500 calorie giornaliere, calorie che però ben presto scesero a 900-1000. Tanto che il generale Trionfi, che nel settembre del 1943 era alto 2 metri, pesava 90 chili, nel gennaio del 1945 ne aveva persi 30, e ne pesava solamente 60. Provate a immaginarvi un uomo di 2 metri che pesa 60 chili per capire quanto fosse veramente scheletrico. L'unica cosa che i tedeschi non potevano togliere ai generali era la possibilità di scrivere a casa, e quello permetteva in qualche modo di tenere i contatti, tenere i contatti con la famiglia, che nel caso del generale Trionfi stava a Roma e aspettava, come tanti altri romani, l'arrivo degli alleati, tenere i contatti con quella famiglia che nel limite del possibile, perché non è che in Italia ci fosse tutto questo cibo, cercava di alleviare la condizione dei prigionieri. Ogni mese, ci raccontano le fonti, a questi generali era permesso ricevere un pacco da casa, un pacco che doveva essere all'interno di una cassetta rigida, o comunque un qualche pacco di cartone rigido, che poteva contenere all'interno al massimo 5 chili di roba, che fosse cibo, che fossero vestiti, che fossero aiuto, e tutto doveva essere centellinato per permettere a quegli uomini di sopravvivere. Mese dopo mese, la situazione però peggiora. Peggiora perché i tedeschi perdono la guerra, e man mano che i tedeschi perdono la guerra, hanno sempre meno cibo per se stessi, figuriamoci per dei prigionieri. Peggiora perché man mano che i tedeschi perdono la guerra, hanno anche sempre meno amore per quei prigionieri, come se ne avessero avuto particolarmente all'inizio. Quei prigionieri che, nonostante le condizioni peggiorino sempre di più, continuano a rifiutare l'arruolamento per la Repubblica Sociale. Il 20 gennaio 1945, le forze sovietiche raggiungono la vistola. Sono ormai a un passo dal campo di concentramento dove si trovano i generali, e forse, qualcuno spera, potranno arrivare ben presto e liberarli. I tedeschi però non ci stanno. Ed esattamente come successe in tanti altri campi di concentramento, in tanti campi di sterminio, decidono che quei prigionieri, quei prigionieri che di certo non potranno spostare di una virgola il risultato della guerra, ma con cui continueranno i nazisti a canirsi con una violenza francamente difficile da comprendere a posteriori, che quei prigionieri, come tanti altri prigionieri, che fossero russi, che fossero italiani, che fossero ebrei, che fossero qualunque la loro origine, dovevano abbandonare quel campo, e dovevano essere spostati all'interno della Germania, lontano da un fronte che stava avanzando rapidamente. Non si poteva spostarli con lo stesso mezzo con cui erano arrivati. La ferrovia ormai era stata abbombardata, distrutta. Quel poco che ancora funzionava serviva per rifornire reparti che cercavano disperatamente di tamponare l'avanzata dell'armata rossa. Così come in tanti altri campi, si decise quindi di organizzare una marcia. Una marcia che avrebbe dovuto portare i prigionieri italiani, ma insieme a loro c'erano anche degli ufficiali alleati, attraverso una strada di più di 400 chilometri, attraverso la neve, attraverso il freddo, attraverso un terreno distrutto, fino a un nuovo campo di prigionia in Germania. Era una completa follia una cosa del genere. Era una completa follia pensare che degli uomini così debilitati potessero fare un viaggio così lungo. Quando partirono, non erano molti a pensare che sarebbero arrivati. E così, ben presto, sfruttando anche il fatto che alcuni dei loro carcerieri erano disattenti, alcuni gruppi iniziarono a staccarsi dal grosso del corpo. Al primo non andò bene. Ai primi tre generali che riuscirono a scappare, infatti, i primi tre generali furono inseguiti e catturati dai tedeschi. Due vennero fucilati sul posto, uno venne riportato in mezzo agli altri. Un altro gruppetto fu invece più fortunato, perché dopo essersi riuscito a staccare dal grosso del gruppo che avanzava verso ovest, si spostò verso oriente e trovò i sovietici, venendo presi da loro, temporaneamente catturati, ma almeno per loro la guerra finì. Il generale Trionfi, però, fa parte di un terzo gruppo. Un gruppo di 17 uomini che, anche in questo caso, approfittando di una disattenzione, riescono a rimanere indietro, a fermarsi in un villaggio lungo la strada, e qui a trovare il riparo in una piccola casupola, che poi si scoprirà essere un teatrino, un piccolo teatrino del villaggio. Il mattino dopo, a causa dei morsi della fame, che come potete immaginare li colpiscono in maniera abbastanza pesante, non erano proprio partiti con lo zaino pieno di rifornimenti, decidono di recarsi in una vicina locanda. Una volta arrivati fanno una brutta sorpresa, perché nella locanda c'è un uomo con una divisa della Luftwaffe. Almeno così viene descritto dai generali, che poi sono riusciti a raccontare cos'era successo, un uomo della Luftwaffe che si presenta come Otto Oys, il quale però, dopo averli visti, sostanzialmente fa spallucce. E dice loro, dopo aver parlato con gli abitanti del villaggio, che possono fermarsi in quel paese, che possono mangiare, comprare cibo alla locanda, ma che poi devono lasciare il teatrino, ma se vogliono possono spostarsi in una vicina stalla, che è sicuramente più calda e dove non daranno fastidio a nessuno. Sottinteso, sembra dire quell'uomo, rimanete qua, toglietevi dalla guerra, a me non interessa, io sto cercando di tornare verso il mio reparto, dice di essere lì per una licenza, sto cercando di tornare verso il mio reparto, non mi interessa nulla di quello che fate voi. Gli uomini, dopo aver mangiato, si spostano nella stalla, sono portati ancora qualcosa da mangiare, finalmente stanno al caldo, finalmente, forse dopo tanto tempo, sentono la speranza rinascere, la guerra sta finalmente finendo per loro, finalmente arriveranno i sovietici. Le cose però andranno diversamente, perché il mattino dopo a tornare è proprio Otto Ois, il quale però questa volta non torna da solo, ma porta insieme a sé un drappello di SS, un drappello di SS che dopo aver identificato i generali, li prende e li fa ripartire lungo quella strada che avevano abbandonato. Questa volta la marcia è più dura, li costringono un passo più pesante, li costringono ad accelerare, e uno dopo l'altro, quelli più stanchi, più anziani, più feriti, iniziano a rimanere indietro. Il primo ad essere ucciso viene seguito, perché si era fermato indietro, addirittura con una scarpa in mano, perché aveva il piede ferito, viene raggiunto da un soldato che sembra volerlo aiutare e che invece lo giustizia sul posto. Un altro dei tra i primi a cadere è proprio il generale Trionfi, che probabilmente non ce la fa più ad andare avanti e che viene ucciso con un colpo di pistola alla testa. Ne cadranno sette lungo la strada, sette uomini che ufficialmente, così sarà riportato, moriranno di stenti lungo la marcia, ma che tutti coloro che a quella marcia della morte hanno partecipato ricordano, furono invece uccisi, uno dopo l'altro, dai tedeschi. I dieci rimasti, ad un certo punto, si trovano messi al muro. I tedeschi sembrano essere stufi di portare quegli uomini, hanno deciso che devono morire, che non possono continuare quella strada. Li mettono al muro, si preparano a fucilarli, ma fortunatamente per loro, quando ormai alcuni di quei generali sono pronti a morire, qualcuno ha già urlato viva l'Italia, sicuro che il colpo, la scarica lo ucciderà di lì a poco, quando sono contro il muro, fortunatamente arriva un ordine. Nessuna fucilazione, gli uomini devono ripartire e raggiungere il campo di concentramento. E così sarà. Dopo una marcia di 400 chilometri, finalmente, finalmente più o meno, arriveranno in Germania. Ovviamente, la loro prigionia non durerà molto, perché con la fine della Seconda Guerra Mondiale, la caduta del Terzo Reich, l'occupazione di quei territori da parte dell'Unione Sovietica, anche la loro prigionia terminerà. E alcuni di loro, una volta saputo, essi tornati liberi, avuto finalmente la possibilità di muoversi chiederanno alle autorità sovietiche di poter tornare su quel luogo dove erano stati giustiziati i loro compagni. Arriveranno, ne troveranno le spoglie, prenderanno quello che possono e il resto lo seppelliranno in un vicino cimitero, in una vicina fossa. La storia del generale Trionfi sostanzialmente si potrebbe chiudere qua, ma come ho detto nell'introduzione, questa non è solo la sua storia, ma è anche la storia della sua famiglia. immaginatevi essere nella famiglia di un uomo prigioniero, un uomo che quando può manda qualche lettera, fa sapere come sta, fa magari capire tra le righe che sta sempre peggio, che le condizioni non migliorano, che i pacchi che stanno arrivando non bastano, ma non può chiedere di più perché neanche la sua famiglia ha cibo a sufficienza e non può toglierlo dalla bocca dei figli per mangiarne lui. Immaginatevi che situazione orribile. Immaginatevi che a un certo punto questa famiglia smetta di ricevere informazioni sul destino del suo caro, di Alberto Trionfi, smetta di riceverle perché ovviamente negli ultimi mesi convulsi di guerra è impossibile essere raggiunti da notizie di questo tipo. E immaginatevi che questa famiglia improvvisamente venga a sapere invece da ufficiali dell'RSI che è giunto un telegramma che informava che i generali prigionieri in quel campo di concentramento non sono più nelle mani dei tedeschi, ma che i sovietici li hanno invece liberati. Quel telegramma è un falso. È un falso inviato proprio dai nazisti per cercare di mantenere stabili i rapporti con la Repubblica Sociale perché non si poteva dire di aver ucciso dei generali italiani così a cuor leggero. Un falso che però accese una falsa speranza in tante famiglie. Quando la guerra finì, quando i loro cari non tornarono, quando coloro che invece li avevano visti morire tornarono e raccontarono che cosa era veramente successo, immagino che cadde sulla testa di queste famiglie un gigantesco masso. Un gigantesco masso di dolore per quella morte così lontana da casa che se possibile andò ancora più ad acuirsi perché ci vollero anni per riuscire ad avere le spoglie di quegli uomini che solo nel 1956 riuscirono finalmente a tornare in Italia, ad essere portati in Italia ed essere finalmente seppelliti. C'era un altro dolore però che rimaneva a queste famiglie, quello di non poter avere giustizia, quello di non poter sapere chi fossero quelle persone che avevano ucciso i loro cari. Certo, qualche informazione l'avevano, c'erano i ricordi di coloro che avevano partecipato a quella marcia, c'era anche, e questo arrivò in Italia, un piccolo diario che il generale aveva tenuto nei suoi giorni di prigionia, un diario che però, mentre il corpo era rimasto sottoterra, si era danneggiato e che ci vorranno anni per riuscire a leggere e a trarre ancora qualche informazione su quello che era successo in quel campo di concentramento, ma nulla che permetterà di capire qualcosa su chi fossero i loro aguzzini, su chi fossero gli uomini che ne avevano decretato la morte, su chi fosse quell'otto ois che aveva tradito o aveva venduto o aveva volutamente ingannato gli italiani e l'aveva portati alla morte. Nel 1973, sono passati ormai parecchi anni, come vedete, Maria Trionfi, figlia del generale Alberto Trionfi, venne a sapere, leggendolo su un giornale dell'operato di Simon Wiesenthal. Simon Wiesenthal, per chi non lo sapesse, è un ebreo, un ebreo sopravvissuto all'olocausto, un olocausto che invece si è portato via completamente la sua famiglia e che una volta sopravvissuto all'olocausto ha dedicato la sua vita a dare la caccia a quei criminali nazisti che per un motivo o per l'altro erano sfuggite alla giustizia, che fossero scappati in Argentina, che fossero scappati in Sud America in generale, che fossero rimasti in Germania, magari mantenendo addirittura lo stesso nome o lo avessero cambiato, tutti coloro che potevano essere accusati di crimini contro l'umanità compiuti durante la guerra vennero ricercati da Wiesenthal che rapidamente divenne noto come il cacciatore di nazisti. Maria Trionfi un giorno lesse su una rivista che Simon Wiesenthal si definiva il cacciatore di nazisti pronto a dare giustizia a tutti coloro che dai nazisti erano stati torturati o uccisi. Tutti, non solo gli ebrei, ma tutti coloro che erano morti nei campi di concentramento nazisti. Maria Trionfi scrisse a Simon Wiesenthal ovviamente all'epoca era un po' più complicato di adesso, bisognava trovare un indirizzo, bisognava tradurre magari la lettera, bisognava avere un contatto, adesso forse sarebbe più facile, ci sarebbe un qualche forma di ufficio stampa con una mail, ma all'epoca non era così facile. scrisse a Simon Wiesenthal e spiegò la sua situazione, spiegò quello che era successo al padre, spiegò il modo in cui era morto il padre e tanti altri e spiegò chi poteva essere colpevole. La risposta di Wiesenthal è cortese, anche se non sembra aprire moltissime strade, ringrazia per aver raccontato quello che è successo, ringrazia per le informazioni e promette che farà qualcosa, che cercherà tra i suoi contatti informazioni su quello che è successo. Invece nel 1975 Simon Wiesenthal scrive una nuova lettera di risposta. Dice che qualcosa ha trovato, ci è voluto tempo, è stato difficile, ma alla fine ha trovato un testimone in Polonia, un uomo che non solo sembra ricordarsi di quei generali italiani e ne aveva anche descritto qualcuno, ma che si ricorda di tutto l'accaduto compreso di Otto Ois. Maria Trionfi riesce a ottenere di poter andare in Polonia, all'epoca sull'Europa c'era la cortina di ferro, non era così facile ottenere dei permessi per andare oltre cortina, ma ci riesce e accompagnato proprio da uomini di Simon Wiesenthal riesce a raggiungere la Polonia e incontrare quell'uomo che ricorda suo padre. Inizialmente è difficile capire se sia vero se veramente se lo ricorda, ma l'uomo in effetti è veritiero, anche perché appena gli chiede di ricordare il padre e di dirgli una qualunque caratteristica la prima cosa che fa l'uomo è di alzare la mano per dire che il generale era molto alto, una cosa che ovviamente nelle foto non si vedeva, ma che se l'aveva visto dal vero non poteva aver dimenticato. L'uomo si ricorda di tutto l'accaduto, ma purtroppo non ha modo di aiutare a capire chi fosse quell'otto hoisse. Non ha modo di capirlo perché non l'ha visto passare, non sa se fosse una persona del posto, non sa se fosse solamente di passaggio, non aveva nulla che gli permettesse a distanza di così tanti anni di capire qualcosa per riconoscerlo. Simon Visenthal non si dà per vinto e inizia ad aprire, cerca di far aprire un'inchiesta in Germania per cercare di capire chi fosse quell'uomo, ma è tutto inutile. È tutto inutile innanzitutto perché riceve pochissimo aiuto. Riceve pochissimo aiuto ovviamente dai tedeschi che non hanno tutto questo piacere di rivangare queste storie, ma a sorpresa riceve pochissimo aiuto anche dall'Italia, dove ben pochi si fanno avanti per aiutare in questa ricerca, dove ben pochi anche dallo stesso esercito, si fanno avanti per cercare di aiutare a cercare questa verità. Riceve ben poco aiuto anche da un altro problema, perché fino a quel momento, fino a questo momento, noi abbiamo parlato di Otto Ois, un nome che tutti avevano solo sentito pronunciare, ma che nessuno aveva mai visto scrivere. Peccato che in tedesco Otto Ois si possa scrivere in tanti modi diversi e che esistano vari cognomi che anche se scritti in maniera diversa vengono pronunciati allo stesso modo e questo ovviamente rese molto difficile le ricerche. Si cercò di lavorare se ci fosse un Otto Ois che aveva dei legami nel villaggio o in qualche villaggio vicino, si cercò di lavorare anche su chi potessero essere i comandanti di quel drappello di SS che aveva ascoltato i generali, si cercò di lavorare anche sulla possibilità che qualcuno dei generali ricordasse qualcosa in più ma non fu così. Alla fine nel 1981 dopo sei anni di ricerca la magistratura tedesca decide che è impossibile andare avanti che non si può cavare nulla da quelle informazioni che ormai è impossibile averne di altre e decide quindi di chiudere il caso. Maria Trionfi in realtà non rinuncia del tutto forse questo dovrebbe dirlo lei io lo leggo un pochettino tra le righe ad un certo punto decise che forse non avrebbe potuto assicurare direttamente alla giustizia quell'uomo anche se sempre tra le righe perché ovviamente non si possono fare accuse mi dà l'idea che qualche idea su chi potesse essere quest'otto ois ce l'aveva e come ma ovviamente questo lo lasciamo come supposizione ad un certo punto però credo che decida che se non può punire coloro che hanno ucciso suo padre che hanno portato alla morte tante altre persone può però continuarne la memoria può continuare a raccontare quello che è successo può continuare a raccontare della prigionia dei generali può continuare a raccontare dei prigionieri italiani in Germania può continuare a raccontare di come quei generali furono costretti a marciare per chilometri e poi uccisi può continuare a dare un volto a qualcuno di quei 600 800 mila un milione di italiani che tra l'8 settembre del 1943 e il 1945 furono portati in Germania e molti di loro a casa non tornarono mai e così come dicevamo nell'introduzione questo dare un volto a queste persone dare un volto a questi numeri dare un volto a questa storia che altrimenti come diceva qualcuno più o meno sempre nella Sesta Guerra potrebbe sembrare semplicemente una statistica invece è una tragedia epocale dare un volto a queste persone è il modo migliore per tramandare quello che è accaduto io ringrazio tantissimo Maria Trionfi per avermi raccontato questa storia ringrazio ancora tantissimo tutti coloro che mi hanno raccontato storie di questo genere ripeto vorrei dedicare una pidola a ognuno di voi forse un giorno farò una pidola semplicemente leggendo tutti i vostri racconti qualcuno mi dirà eh ma come fai a sapere che sono veri non mi importa sono stati talmente tanti prigionieri in Germania che se non è vero quello che viene raccontato sarà vero per qualcun altro che mi rendo conto sia un pensiero brutto ma è qualcosa che credo realmente che debba essere ricordato ringrazio Maria Trionfi per tutte le informazioni che mi ha mandato ringrazio per essere stata gentilissima aver anche risposto a qualcuno dei miei dubbi per telefono spero perché mi ci è voluto un annetto per preparare questa pidola spero di essere riuscito a rendere al meglio la sua storia e quella di suo padre io come sempre ringrazio anche tantissimo abbonati e Patreon perché e anche grazie al loro aiuto e questo canale va avanti che possiamo portarvi nuovo materiale oggi in particolare vorrei ringraziare Salvatore Coppola grazie mille per il tuo sostegno voglio peraltro ma pian pianino riuscirò a ringraziare tutti ringraziare anche tutti coloro che continuano ad abbonarsi perché è veramente una cosa che che mi sorprende grazie mille peraltro ieri lo dico per tutti gli abbonati e Patreon è uscito il resoconto mensile del mese scorso su come vengono utilizzati i soldi che ci donate spero che la cosa abbia fatto piacere per il resto come sempre io vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di mettere le loro opere e se volete curiosare tra qualcuna di queste storie qui a fianco c'è l'elenco delle più delle uscite fino adesso ma secondo me se avete ancora i nonni se avete ancora dei genitori anziani andate a chiedere anche loro di raccontarvi qualcuna delle storie della loro gioventù perché vedrete che di curiosità ve ne toglierete tanta anche così noi ci vediamo presto con una nuova pillola di storia a presto ciao ciao ciao